ma e non te sentivo è perché vicino al divano non prende è sì e abbe pranzato mi ha fatto il sugo pronto perché la signora era stanca non gli andava di cucina ha fatto il pesto ma qua tutti i giorni è così tutti i giorni pesti e perché lei dice che è stanca no ma infatti dovremmo pure pulire casa ma mi dovrà ripulire tutto quanto a me perché già si è rimessa sul divano così ieri non ha fatto niente oggi così ma non è vero io so ma se abbo mi sei così vabbè per non parlare poi di tutta roba tutto il fatto spesa tutto io pagato tutto io segui le avventure di momo e kika siamo su tiktok facebook instagram e youtube condividi il video lascia un like e commenta andava bene anche troppo